Quando i carabinieri hanno rotto il finestrino del suo camion, il 53N era disteso tra il sedile di guida e la cuccetta. Impossibile per lui raggiungere il telefono posato sopra il cruscotto per chiedere aiuto. Fatale è stato l'infarto che lo ha accolto durante il sonno e lo ha stroncato mentre tentava di dare l'allarme. Ho visto il camion, mi sono fermato, era in moto. Era in moto? Era in moto. Sono salito sopra la gomma per andare dentro e l'ho visto disteso. Dopodiché ho chiamato il 112 subito. Il mezzo pesante era in moto e l'aria condizionata in funzione con i finestrini chiusi. L'uomo partito sabato mattina da Gioia del Colle aveva risalito la penisola con il camion fino a raggiungere via Prato della Valle a Povegliano dove questa mattina avrebbe dovuto caricare della merce e fare ritorno a casa. Una giornata di stress sotto il caldo, torrido e nel traffico del controesodo. Poi una prima notte di riposo nel piazzale di via Prato della Valle ed un intero giorno sotto il sole della zona industriale. Purtroppo, forse anche a causa del caldo torrido di questi giorni e della giornata di domenica passata con il camion sotto il sole senza possibilità di farsi una doccia né di ristorarsi adeguatamente, a casa non potrà più fare ritorno. Vito Netto aveva con sé anche i medicinali per i remi e per il cuore. Al telefono domenica sera aveva tranquillizzato la moglie di averli assunti. Mai la donna avrebbe potuto pensare che quella sarebbe stata la loro ultima conversazione.